collare in lana francese data di fabbricazione e dotazione intorno agli anni 70 ex dotazione armée française materiale oramai dismesso in quanto composto dal 50 per cento di lana 50 per cento altre fibre da come più o meno l'abbiamo capito la produzione ovviamente è francese capo molto caldo si può utilizzare come collare come copri volto come passa montagne impieghi sono vari si può anche decidere di ritirarlo su e formare una sorta di cappellino la parte inferiore come potete notare è più larga ha una forma che dovrebbe avvolgere coprire la base del collo la parte superiore va a stringere e taglia unica in quanto molto elasticizzato utilizzabile in inverno capo invernale per primi libri